Diciamo, per queste spese che ho voluto affrontare, l'ho affrontato di più per curarmi la mia personalità, cioè curarmi nel senso di poter riuscire a mangiare bene, cosa che prima non riuscivo, continuamente infiammazione alle gengive, ecco, io dico questo qua, ogni persona deve curarsi, perché se ci sono delle spese di affrontare per la salute, che lo faccia, lo faccia nel senso perché buttiamo tanti soldi a volte per cose stupide, diciamo, allora quando arrivi il momento per la nostra salute bisogna affrontare queste spese, perché se abbiamo del denaro per poter comprare un'automobile, se abbiamo del denaro, non so, per andare a divertirci, va benissimo, però la salute è al primo posto. Ecco, io mi trovo qua dal dottor Parmas, mi trovo in Bucarest, per puro caso, diciamo così, cercando, perché ero deciso ad affrontare questa cura dei denti, in Germania, vivo in Germania, vicino a parte del Düsseldorf, ecco, io facendo una ricerca in generale, in tutti i paesi europei, di una clinica dentale, ecco, mi sono imbattuto su quello del dottor Parmas, ecco, guardando dei video, essere sincero, sincero, è stata l'unica persona che mi ha aspirato più fiducia, però questa fiducia nel senso che il dottor Parmas si è espresso, diciamo, chiaro, molto chiaro, nel spiegare le procedure da fare, cioè il comportamento deve avere, che tipo di maniare viene usato, e posso dire questo, che ho espresso fiducia, ecco, mi sono messo in contatto, posso dire anche, ringraziando anche il signor Antonio, grazie Antonio, grazie perché subito ho messo in contatto, sono stato sempre puntualmente, avendo contatto con me, alle mie domande ho avuto subito risposta, fino all'ultimo giorno della partenza il signor Antonio con me puntualmente ha avuto i contatti, in Germania non c'erano dentisti, ci sono? ci sono, ci sono i dentisti, ecco, ecco, io ho chiesto alcuni preventivi, allora, dico essere sincero, a Erna, è il paese, di una clinica dentale, mi hanno chiesto, per la parte super, l'arcata superiore, mi hanno chiesto, da 11 a 13 mila euro, un'arcata superiore, quindi due? i due andavamo sui 25 mila, 24, 25, 26 mila euro, e qua hai speso? qua ho speso, all'incirca adesso, mi sembra che si, 8800, un terzo, un terzo, sì, un terzo di quello che in Germania mi hanno proposto, però anche qua a Bucharest si pagano le tasse, ecco, non è in black o cosa, le scarichi poi dalle tasse, esattamente, sì, uno può scaricare, viene rimborsato di alcune spese, e allora non è più la spesa di 8800, ma qualcosa ancora viene risarmiato, diciamo, sì, no, mi trovo benissimo, anche il personale, tutto ok, molto gentili, ospitali, hai fatto poi una ricerca online, anche su altre nazioni? sì, ho fatto delle ricerche come Bosnia, Croazia, Serbia, Turchia, Albania, esatto, Albania, Moldavia? sì, Moldavia e il dottor Palmas, quello, sì, ecco, dei tipi di materiali, cioè il dottor Palmas specifica il materiale, tutto il lavoro, le procedure, mentre in altre cliniche, come in Turchia, loro mettono un servizio di quattro impianti, non parlano da sei, quattro impianti, tutta questa roba qua, però non specificano che materiale, che materiale viene... e se sono incollati o avvitati? questa non specificano loro, dicono loro solo, diciamo, quella procedura, l'impianto, e quel costo, però non parlano di, di che materiale. Allora, io avendo contattato, contattato, la clinica del dottor Palmas, sono rimasto molto soddisfatto, in tutto, e attualmente mi trovo qui a Bucharest, la nuova clinica, mi trovo. Come è la nuova clinica? Allora, con l'accoglimento, l'accoglimento, come dice in italiano, l'accoglienza, molto gentile, come, sono stato prelevato dall'aeroporto, l'autista della clinica, con lingua italiana, con essenza lingua italiana, non avendo problemi di lingua, ecco, sono stato portato in hotel, la mattina, sono andato qui in clinica, e posso dire, che, l'ambiente, ecco, l'ambiente, che c'è, che c'è sta, tutti i dottori, i medici, i servizi delle ragazze, anche le segretarie, con lingua italiana, molto soddisfatto, rispondono a qualsiasi domanda, rispondono, chi sta in Germania, che ti chiede, c'ha gli amici in Germania, che aspettano, sì, in Germania, ci sono stati già degli amici, anche ieri ho ricevuto, delle telefonate, delle chiamate, e, anche qualcuno, mi ha chiesto, una volta che, avrò finito, avrò tutto, diciamo, il servizio completato, vogliono vedere, che condizioni mi trovo, perché probabilmente, loro anche, avranno bisogno, decideranno poi, però, sono io stesso, a consigliarsi, la clinica del dottor Palmas, perché, io fino a questo momento, sono, accendo per cento, soddisfatto. Come hai perduto i denti, invece, venendo proprio al problema, della malattia? Ecco, i denti, è un problema, diciamo, anche perché, sempre per motivo di lavoro, stando sempre fuori, non ho avuto quella cura, che, si dovrebbe fare, ecco, più anche, ho il viso del fumo, quello è il, il motivo principale, del problema dei denti, ecco, magari, il mio dentista, guarda, il mio dentista, che tuttora oggi, magari, probabilmente, non aveva più bisogno, non è stato sincero con me, non è stato sincero, perché, quando ho avuto il problema, gli ho spiegato il perché, di quel problema, lui, mi ha raccontato, qualcosa, che a me non andava giù, per via di informazione, poi ho scoperto, che lui mi aveva detto, una bugia, mi aveva detto, una bugia, e ho capito, che lui, attraverso quella bugia, aspettava, del problema che io avevo, che io andavo a cura di lui, e la moglie, era odontotecnica, cioè, lui faceva il servizio, e la moglie, doveva costruirmi, i denti, è stata la furbizia, per lui, era stata una furbizia, cercare un buon modo, però io ho scoperto la verità, come hai fatto? perché mi sono informato, con altri dentisti, mi sono informato benissimo, per quale motivo, avevo quel problema, e non so, sono rimasto molto deluso, molto deluso, e ho lasciato, da quel dentista non vado più. posso chiederti, che tipo di problema, ti avevi detto, che avevi? allora, io con la questione, che mi mancavano le mole, mancando le mole, i denti anteriori, si toccavano, avendo quei quattro, ricostruite con materiale, diciamo, che è molto più duro, dei denti, i denti, non avendo l'appoggio con le mole, scendono troppo in basso, col tempo, sono andato a finire, che vanno, consumate, esattamente, nel momento, che io ho chiesto al medico, perché questa, perché questa, che è quello che mi sta succedendo, sono consumati i denti, sono, strano, solo quelle, che andavano a fuggiarsi, con quelle, diciamo, ricostruite, e lui mi ha detto, che probabilmente, che ero io, quando dormivo, o così, che si diceva un po' troppo, cioè, come si dice in italiano, quando la persona, vitrine, sì, ma io ho detto, strano, perché è solo questa parte che tocca, non gli altri, dovrebbero essere generalmente tutti, e loro ho avuto un sospetto, e della mi sono andato a informarmi, di altri dentisti, e gli altri dentisti, mi hanno spiegato, no, non è quello, il problema è, perché mancando le mole, perché le mole, le mole sono le prime che toccano, mentre davanti, dovrebbe rimanere sempre, quel millimetro, libero, mancando queste, le mascelle, scendono troppo giù, troppo in basso, e toccano davanti, e allora, essendo il materiale più duro dei denti, hanno consumato, quei denti che avevo, infatti la ceramica, consuma i denti, si, ha consumato i denti, e là, ho capito che lui mi ha raccontato, una bugia, perché lui come dentista, sapeva il motivo, perché, perché lui mi aveva in cura, e che mi mancavano le mole, allora erano le mascelle, che sento non troppo bassi, avrebbe dovuto operare prima, rimettendo i denti dietro, dietro, esatto, e non la fa, a a a a a a a Grazie a tutti